Anche per il 2022 il Comune di Pesero rinnova il Fondo Anticrisi, un fondo che diventa particolarmente significativo in un'annata in cui l'inflazione è pure aggravata dalle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina. Ecco allora che il fondo diventa un sostegno concreto alle famiglie colpite da crisi occupazionale per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas. Abbiamo rinnovato il Fondo Anticrisi mettendo 340 mila euro, è un fondo che nasce per dare sostegno alla crisi occupazionale e abbiamo pensato di dare sostegno sostenendo le famiglie e le persone sulle bollette, bollette luce, acqua e gas. Abbiamo anche pensato a questo, di alzare l'ISE rispetto a quello che era stato il Fondo Anticrisi in precedenza, quindi l'ISE è stato spostato a 20 mila euro e questo perché vogliamo intercettare più persone possibili, anche quella fascia grigia che generalmente non viene intercettata dai servizi sociali ma che in questo periodo ha subito fortemente l'aumento delle bollette. Il fondo è indirizzato alla crisi occupazionale e quindi a chi ha perso lavoro nel 2021, quindi dal 2021, che in cassa integrazione e quindi tutti quei soggetti che sono stati colpiti in questo periodo fortemente. Il fondo presentato alla presenza del sindaco Matteo Ricci e delle rappresentazioni sindacali di CGL Cisle Will è il risultato dell'ultima consultazione con le parti sociali che si è svolta a marzo. Il contributo sarà costituito da una tantum commisurata all'importo delle spese relative esclusivamente all'abitazione di residenza effettivamente pagate e documentate fra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Gli importi massimi erogabili sono di 500 euro per le famiglie di uno o due componenti, di 700 per quelle di 3-4 componenti, di 1000 euro per quelle da 5 componenti in su. Sarà possibile inoltrare domanda da venerdì 22 aprile e dentro il 23 maggio attraverso i servizi online della pubblica amministrazione.